1707 contagi mai così tanti in un solo giorno il capodanno dei pesaresi fra regole e restrizioni due uscite e due ingressi nella squadra comunale di matteo ricci viabilità ecco le opere in cantiere nel 2022 una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione di mercoledì 29 dicembre purtroppo dobbiamo aprire con un altro record di contagi 1707 casi in un solo giorno mai così tanti nelle marche il servizio il 2021 della pandemia marchigiana si sta chiudendo con numeri inquietanti anzi con numeri mai visti oggi le marche fanno i conti con un 29 dicembre che registra 1707 nuovi contagi da covid-19 mai così tanti in un solo giorno di una pandemia che non sta vivendo l'ora più buia di questo biegno ma che dice come la quarta ondata si amplifichi di violenza basti pensare che in soli due casi si erano superati mille contagi e in un paio di giorni le cifre sono già raddoppiate nonché quadruplicate rispetto a una settimana fa ad essere positivo oggi il 18 per cento dei tamponi quasi un tampone su cinque in pratica rivela covid-19 decisiva la variante omicron che si avvicina al centinaio di casi accertati ancona è la provincia più colpita con 560 casi che arrivano a mille se uniti alla provincia di fermo meno pressante il contagio a pesaro urbino con 198 casi intanto l'incidenza da contagio schizza a 423 casi ogni 100.000 abitanti che somigliano a una cifra molto vicina alla zona arancione in tutto questo si registrano 7 ricoveri in più di ieri con 261 pazienti di cui 43 in terapia intensiva cioè il 17 per cento dell'occupazione dei posti letto pesante anche il fardello dei decessi altri 7 5 uomini e due donne di età compresa fra 74 e 89 anni ai numeri del contagio la regione risponde con i numeri del potenziamento della campagna vaccinale l'assessore alla sanità filippo saltamartini a margine del consiglio regionale di oggi annunciato un piano straordinario per riuscire a somministrare 444 mila terze dosi entro il 31 gennaio con le prenotazioni slittate a febbraio marzo che verranno ricontattate nel primo mese dell'anno tramite un sms per potersi vaccinare in tempi più celeri regione che seda anche gli intasamenti ai punti vaccinali verificatisi nell'ultima settimana da oggi agli hub si accede solo su prenotazione i non prenotati alla seconda o terza dose dovranno ripiegare la procedura su camper vaccinali o in farmacia si può invece sempre essere vaccinati senza prenotazione se si tratta di prima dose è un paio di giorni dal capodanno è assolutamente inevitabile il condizionamento dei dati della pandemia sulle celebrazioni in questo servizio infatti ricordiamo quello che si può e quello che non si può fare l'ultimo dell'anno secondo le regole attuali per anni la domanda tormentone di fine dicembre è sempre stata cosa si fa a capodanno da un paio d'anni invece la domanda si è trasformata in cosa si può fare a capodanno praticamente nulla nel 2020 con il san silvestro trascorso in lockdown molto di più in questo ultimo dell'anno 2021 ma meno di quanto era lecito sperare solo fino a poche settimane fa il decreto ministeriale del 24 dicembre dice infatti che sarà un ultimo dell'anno senza eventi pubblici senza festa in piazza con conto la rovescia verso la mezzanotte senza sale da concerto o discoteche che resteranno chiuse questo impone la rapidità di contagi accelerata dalla variante omicron anche nelle marche la parola d'ordine è evitare qualsiasi situazione che potrebbe determinare assembramenti nessuna limitazione invece per gli spostamenti ci si potrà muovere verso altri comuni o altre regioni rispetto a quelle di residenza e si potrà andare in albergo inevitabile le polemiche anche a pesaro fra i gestori delle discoteche riaperte da poche settimane e già richiuse fino al 31 gennaio come imposto dal decreto festività polemiche suscitate da una regola che fa figli e figli astri con le sale da ballo iper controllate e circoli o feste private impossibili da controllare il massimo consentito sarà il cenone con musica da sottofondo ma senza balli già perché rispetta un capodanno fa questa volta al ristorante ci si potrà andare e lo si farà come lo si sta già facendo da un paio di settimane ovvero solo muniti di super green pass tradotto solo se si è vaccinati c'è però anche una sacca di resistenza diffusa a evitare situazioni potenzialmente da contagio ci sono sì i locali pieni ma non mancano anche i ristoranti pesaresi che hanno preferito disdire il cenone tanti invece quelli che lavoreranno con l'asporto per i cenoni da apparecchiare in casa fra le mura domestiche infatti non vige nessuna limitazione a ricevere ospiti al di là della tenersi al buon senso in questo servizio abbiamo riepilogato le regole del capodanno tra 2021 e 2022 ora vediamo che cosa faranno il 31 dicembre alcuni dei pesaresi che ha intervistato il nostro Edoardo Razzi sarà un capodanno diverso rispetto all'anno scorso un capodanno comunque con degli accorgimenti da rispettare i cittadini pesaresi lo passeranno in casa oppure lo passeranno al ristorante lo passeranno in famiglia lo passeranno con gli amici sentiamo cosa ci hanno risposto in un centro termale in romagna vicino vicino proprio vicino cesena diciamo così senza fare pubblicità troppo sfacciata e per il cenone ha prenotato un ristorante o compreso in questo in questa struttura e quindi è compreso anche il cenone e poi io andrò sicuramente il 30 e torno il 3 quest'anno se tutto va bene facciamo un viaggio con tutta la famiglia sperando che va tutto bene dove andrete negli stati uniti che in che città new york capodanno quindi diverso e cenone quindi non classico non classico italiano ma diverso sì per quest'anno proviamo così non abbiamo mai fatto siamo stati sempre a casa negli ultimi due anni perciò cerchiamo di fare qualcosa di diverso quest'anno non sappiamo ancora benissimo quali giorni e in che momenti ci alleneremo avevo tante idee montagna ma andiamo di qua di là di su di giù poi in realtà raggiungerò degli amici in montagna o sarò con le mie amiche qua comunque con gli amici sempre a casa sempre a casa per caso stiamo vedendo davanti a televisione un bacino a mezzanotte e poi a letto i due vecchietti vanno a letto se non invece che prenderà da sport oppure comunque tutto in casa ancora da decidere diciamo per l'ultimo dell'anno pensiamo di cucini mia in due non è che sia ci siano tante esigenze ecco o stiamo insieme con lei oppure raggiungerò anche delle mie amiche vediamo un po anche dai giorni liberi quanto tempo abbiamo per spostarci e anche covid permettendo perché comunque si stanno alzando anche i casi dobbiamo stare attenti anche a quello noi perché il campionato è sempre un po un filo di un rasoio perché basta quattro contagiati in squadra che la squadra deve stare in quarantena e già stanno uscendo casi di squadre bloccate quindi anche per quanto riguarda gli spostamenti dobbiamo comunque cautelarci e cautelare anche i nostri cari perché noi comunque siamo a contatto con tanta più gente rispetto alle persone che abbiamo a casa ecco cambia la giunta comunale del sindaco Matteo Ricci a salutare sono le assessore Giuliana Ceccarelli e Sara Mengucci che saranno sostituite dai consiglieri comunali Luca Pandolfi e Camilla Murgia Il già preannunciato cambio di assetto della giunta comunale di Pesaro ora è diventato ufficiale una squadra rigenerata dal sindaco Matteo Ricci che all'interno del suo team ha sostituito gli assessori ai servizi educativi e ai servizi sociali Giuliana Ceccarelli e Sara Mengucci con due new entry i consiglieri comunali Camilla Murgia e Luca Pandolfi un rinnovamento avvenuto a metà legislatura arrivato in seguito alle dimissioni per motivi lavorativi e personali da parte di Ceccarelli e Mengucci a ricoprire ora il ruolo di assessore ai servizi educativi scuola e pari opportunità sarà dunque Camilla Murgia 40 anni mentre spetterà a Luca Pandolfi 48 anni ad occuparsi di servizi sociali politiche per la famiglia e volontariato a sostituire invece i due nuovi assessori nei loro precedenti ruoli che ricoprivano all'interno del consiglio comunale saranno Giorgia Leonardi e Laura Biagiotti le novità però non finiscono qui sono stati infatti rimodulati i compiti dei diversi assessori già presenti in giunta comunale con numerosi cambiamenti nelle loro deleghe Enzo Belloni d'ora in avanti sarà impegnato in viabilità e ciclabili verde pubblico sicurezza polizia locale e società partecipate Riccardo Pozzi manterrà il patrocino sui lavori pubblici mentre Mila della Dora si occuperà ancora di sport ricevendo inoltre gli incarichi di urbanistiche ed edilizia privata lasciati liberi da Andrea Nobili il quale sarà impegnato in bilancio personale l'assessore Aidi Morotti riceverà invece da Mila della Dora i compiti sulla politica della casa e sulle politiche giovanili un nuovo assetto che come annunciato dal sindaco Ricci consentirà al comune di Pesaro di affrontare la nuova fase dell'emergenza covid-19 e le opportunità del PNRR Cambiano assessore e come avete visto nel servizio cambiano alcune deleghe anche degli assessori attuali non cambieranno però le mansioni di Enzo Belloni al centro delle opere pubbliche di viabilità in questa intervista andiamo a scoprire quali saranno le grandi opere in cantiere nelle 2022 sostanzialmente quelli che avranno un impatto forte sulla città dal punto di vista viabilistico la rotatoria di largo tre martiri che in approvazione andrà in gara le prossime settimane la ciclabile di via Fratti, la ciclovia adriatica di Colombarone quindi che permetterà il collegamento con il comune di Gabice quindi dal punto di vista viabilistico questi sono interventi molto molto importanti. Dovrebbe partire anche la ciclabile di collegamento tra Vismara e Torraccia anche quello che darà un respiro diverso rispetto al collegamento col mare con la parte commerciale dei quartieri insomma di Vismara con il resto della città. Partiranno sicuramente i lavori della nuova palestra di Via La Marmora per un importo di 3 milioni 200 erotti e partiranno con la fine dell'anno scolastico i lavori alla scuola Dante Alighieri. Vedranno il completamento anche gli interventi relativi all'efficientamento energetico delle scuole di Via Leoncavallo quindi la scuola elementare di Via Leoncavallo e la materna della Grande Quercia quindi tutti interventi che sono relativi alle scuole e che presumibilmente insomma vedranno l'inizio alla fine nel 2022. Un altro intervento importante che partirà appunto nel 2022 sarà l'intervento decisivo sulle Cavalca Ferrovia che è stato oggetto anche di polemiche e discussioni per tanti mesi ma noi avevamo atteso un finanziamento di 3 milioni dal Ministero degli Interni che è è stato certificato nel 2021 ma è esigibilità nel 2022 e a questo punto noi potremo andare in gara e in accordo con RFI fare il lavoro. Il lavoro è un lavoro complesso ovviamente perché interveniamo sopra la linea ferroviaria. Dal punto di vista dei tempi di organizzazione di gestione del lavoro siamo già in contatto con Ferrovie per avere un progetto pronto e definitivo che poi non ci porta a perdere ulteriore tempo nel momento in cui faremo l'affidamento dei lavori. Direi che il Cavalca Ferrovia è una di quelle cose a cui teniamo in maniera particolare. Partirà anche il collegamento, il bando delle periferie con la ciclabile lungo il fiume Foglia e il ponte di collegamento e partirà anche il bike hub che realizzeremo sotto il Cavalca Ferrovia. Anche quello contribuirà a dare una nuova vita a quel pezzo di città che per noi, ridosso dalla linea ferroviaria, tra la ferrovia e il parco Miralfiori in qualche modo è stata una situazione un po' critica che comunque andremo a risolvere da qui a breve. La fondazione Pesaro Nuovo Cinema ha annunciato oggi le date della 58esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro che si terrà dal 18 al 25 giugno 2022. È stato annunciato anche l'evento speciale sul cinema italiano che quest'anno sarà dedicato a Mario Martone. Attraverso la retrospettiva dei suoi film la pubblicazione di una monografia e una tavola rotonda aperta al pubblico, la mostra omaggerà il grande regista napoletano, reduce dal successo di E qui rido io, presentato alla scorsa mostra del cinema di Venezia e dalle riprese del suo nuovo film Nostalgia con Pierfrancesco Favino. Sta per tornare la festa della Befana di Urbania, costretta però a riadattare il suo programma alle ultime regole. Dal 4 al 6 gennaio, come prevede la recente normativa, non saranno realizzati spettacoli all'aperto, non sfilerà la calza più lunga del mondo e non ci sarà la tradizionale discesa della Befana dal campanile. Si terranno però spettacoli e laboratori nei saloni più belli della città dove però si potrà entrare solo su prenotazione con mascherina FFP2 e esibendo il Super Green Pass. Si potrà comunque scoprire la casa della Befana e all'ufficio postale i bambini potranno scrivere la loro letterina dei desideri. Urbania sarà addobbata con calze appese ovunque il cortile di Palazzo Ducale, si vestirà in uno speciale arredo con oltre 180 volti di Befana e le vetrine dei negozi saranno personalizzati con i lavori realizzati dagli studenti dell'Istituto della Rovere. E proseguono le interviste del nostro Giorgio Ricci alla scoperta di alcuni dei luoghi pesaresi, simbolo dell'accoglienza e del conforto a malati e soggetti fragili. Dopo Fondazione Fattore, Associazione Noi Come Prima e Casa Moscati, oggi entriamo a Casa Tabanelli, un luogo nella zona torraccia di Pesaro che da quasi sette anni dà un'opportunità di ripartenza a poveri e senza tetto attraverso l'opera della Fondazione Lions della Caritas di Ocisana e di tanti volontari. Questo testo, questo fatto che possa portare una seconda vita, un progetto che non è che ormai l'interno della base di Pesaro, ma non sarebbe attuale, comunque, oggi, perché c'è un altro grande controllo che c'è, il controllo della Casa Senti di realtà, come condizione di dare i vari vari della possibilità, mangiare imparare un'opera di un tavolo in casa, un'aria di attività, un'aria di attività, quindi una matrizia, un'aria di cui gli mogli che non possono trovare nel suo modello, comunitario, un'aria di attività, un'aria di attività, è una casa che si basse su un'attività della coscienza, in cui le persone quando trovano fido casi buoni, se presenti, ma anche più importanti da intervento della capacità della possibilità di avere un'attività. E' un luogo in cui le persone fanno veramente dei progetti per tornare insieme alla società. Questi anni li ha visto passare le persone che hanno visto passare le persone che vivono dal vecchio, che hanno trovato il giusto diritto e gli giusti affetti la possibilità di rinforzare tra un piano completamente. In questa maniera non è solo questo, perché questa maniera ditte è la casa della vita. E non è un luogo per tentare, secondo me dagli osti e dagli osti e dagli osti e dagli osti, dagli osti e dagli osti e dagli osti e dagli osti e dagli osti, ma è un luogo per tentare di metterle a disposizione. Vedete che questo è il centro, la porta di questa struttura e, fondamentalmente, anche quello che vuole carico di specializzazione, quello di mettere al centro di una comunità e si prende carico in modo diverso. Questi anni diventano strumenti, sono passati a diversi strumenti, anche complicate, che però, con il giusto tempo, naturalmente è un'attività, una capacità di fare attenzione. Ora abbiamo anche degli ospiti che ci vengono a trovare, non solo per andare, ci sono partito per condividere insieme a loro una parte di vita e vestibiliare anche la possibilità, anche di fare in questo momento, a qualsiasi partita, che veramente è una cosa possibile. Questa è una cosa possibile grazie all'attività che tutta l'autorità ha rispetto ai soggetti di competenza, rispetto all'attività della persona che ha veramente la voglia di credere che esiste per tutto secondo me. E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale. Prima di salutarci vi ricordiamo come sempre la nostra prima serata che comincia alle 20 e 10 con il nostro speciale dedicato a start-up e innovazione. Parte da Pesero la partnership fra BP Cube di Pesero e Mad Group Holding di Macerata. Vedremo tutti i dettagli in questo speciale realizzato dalla nostra Francesca Tricca. E il mercoledì sera è come sempre la serata di Green Tour, ultima puntata del 2021 di questo seguitissimo format di Rossini TV che vi ha portato alla scoperta di alcune dei luoghi più belli del nostro entroterra. Puntata di mercoledì 29 dicembre che sarà dedicata a Vallefoglia e Montelabate. Appuntamento dunque 21 e 20 oppure le repliche giovedì, venerdì, sabato e domenica come potete consultare nella nostra grafica. L'informazione su Rossini TV tonna puntuale domattina alle 7 e 20 ci sarò io a tenervi compagnia con la rassegna stampa dei quotidiani locali della provincia di Pesero e Urbino. Vi aspetto dunque alle 7 e 20. In alternativa ci sono le repliche alle 8 e 20, alle 12 e 30, alle 14 e alle 18. e vi ricordo anche l'app di Rossini TV, uno strumento utile e semplice per avere sempre a portata di click la possibilità di rivedere le nostre notizie, di consultare il nostro palinsesto o semplicemente di inviare segnalazioni alla redazione. Ed è davvero tutto per questa edizione delle TG, ora vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.